Ben trovati a un aggiornamento con la tendenza settimanale. Prima parte di settimana che vedrà un po' di variabilità di passaggio, ma da martedì e fino alla giornata di giovedì un anticiclone dalla Spagna interesserà tutte le nostre regioni, quindi prevalente stabilità, giornate tranquille a metà settimana con ampio soleggiamento soprattutto al centro-sud. Invece cambiano le cose nel finire di settimana, da venerdì correnti più umili atlanti che inizieranno a interessare molte zone del centro-norte, specie regioni settentrionali ed alto tirreno, quindi in vista del fine settimana possibile guasto del tempo con il ritorno di qualche pioggia e nevicata sull'arco alpino. Aggiornamenti come sempre sull'app di Trebi Meteo.